Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Mario e Sonic ai giochi olimpici di Rio 2016 appunto, direi di iniziare subito con questa serie che non portavo da un bel po' di tempo erano più di due settimane ormai e d'ora in poi sarete voi a farla continuare, in che senso? nel senso che alla fine di ogni video, nei commenti, non alla fine, nei commenti di ogni video di questa serie mi direte voi se volete quale sport e con quale difficoltà farlo perché io come sapete gli sport li ho finiti tutti e quindi per non finire subito già la serie dopo circa 20 episodi 21, 22, vabbè, questo dovrebbe essere il ventiduesimo magari possiamo continuarla nel senso che voi mi dite quale sport fare e con quale difficoltà allora, intanto ho già sbagliato perché ho avviato il menu degli sport invece di andare a vedere la difficoltà perché nell'ultimo episodio c'è stato un utente che mi aveva chiesto di fare diciamo uno sport con una difficoltà mi aveva detto di fare, se non sbaglio, calcio plus nella modalità difficile e quindi, anche se ci ho messo un po', però almeno l'ho portato, meglio che niente diciamo allora, vi faccio rivedere quali sono gli sport, eccoli qua, questa è una lista mettete in pausa il video, magari ve li leggete tutti anzi, ve li faccio vedere così calcio, golf, salto in lungo, 110 metri e ostacoli 100 metri, lancio del giavellotto, nuoto, 100 metri stile libero tiro con l'arco, no, tiro con l'arco no perché non posso farlo purtroppo beach volley, tennis tavolo, pugilato, equitazione, BMX e ginnastica ditemi voi quale volete, e se volete ci sono anche quelli plus cioè gli stessi sport che vi ho appena elencato però con delle modalità, cioè, che sono un po' diversi diciamo alla fine lo sport è sempre quello ma un po' diverso come potete vedere, ok ve li sto rifacendo vedere con lo screenshot plus allora, iniziamo subito con il calcio plus che dovevamo fare oggi ho messo come difficoltà difficile proprio quindi al massimo, ecco e direi di usare shadow sì, dai, ci sta usare shadow, va bene poi vi dico anche che tra pochi giorni ci sarà farò un video dove ne parlerò, quindi non preoccupatevi farò un video dove parlerò di una piccola pausa che farò nel canale piccola, per modo di dire, perché per circa tre settimane non farò video questa pausa inizierà tra qualche giorno tipo metà della prossima settimana vi spiegherò tutto in un video dedicato che dovrei caricare martedì non preoccupatevi, parlerò di questa pausa, di questo evento qui evento, vabbè, non è proprio un evento però ne parlerò martedì, nel video di martedì che non è proprio solo una pausa vabbè, lasciamo perdere, dai, ne parlerò nel video che se no, cioè non c'è bisogno che sto qui a spiegare i dettagli allora, tempo 4 minuti, sì dai, anzi facciamo 2 minuti sì, 2 minuti così almeno facciamo anche 2 partite, sì ok, queste sono le regole che avevate sicuramente già visto nell'episodio dedicato al calcio plus anzi al calcio in generale, poi anche quello plus ecco, contro Yoshi, perfetto, vediamo un po' perfetto tra virgolette perché la difficoltà è difficile, come sapete quindi sarà, sarà, cioè, siamo nei guai ok, ce l'ho detto mamma mia, oh, iniziamo bene se già non riesco a parlare vuol dire che è veramente un'ottima cosa tra virgolette qui ci sta, va a fare un primo un po' di possesso palla ecco, magari facendo passaggi giusti e non facendo in modo che i giocatori si passano la palla da soli attenzione, vai Shadow, maledizione in mezzo, vai, vai Shadow no, maledizione me l'ha parato questo anche vabbè, dai, 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 che ce la possiamo fare vai, no grande così, ok cerchiamo di avanzare poi c'è, abbiamo il vantaggio che Shadow attenzione 1-0, grandissimo dicevo, Shadow ha il tiro speciale, diciamo il super tiro, ecco tipo la mossa speciale, vecchie mosse di Nazuma vecchie, vabbè le mosse classiche, ecco cosa sta succedendo qui? mamma mia, decidetevi o uno o l'altro ce la deve avere la palla no mamma mia, che rischio fallo da lì è un po' pericoloso, eh speriamo di no ah no, invece l'ha passata ok, credevo che tirava direttamente in porta ci è andata bene, dai vai così possesso palla, attenzione cioè, tra virgolette non è proprio un possesso palla questo, ah siamo già nel recupero ok, è passato già un minuto anzi, sapete che quasi quasi faccio ecco appunto, volevo questa 6 contro 1 attenzione abbiamo fatto sparire tutti gli altri Yoshi grandissimi così 2-0 ok, questa questo potenziamento diciamo, chiamiamolo così non l'avevo mai visto se devo dire la verità, eh mamma mia che fortuna ok, intervallo 2-0 non so perché lì c'è lo stemma di Mario non si sa perché non sta giocando Mario no, maledizione super tiro parateglielo maledetti grande così no, no, è estordito il portiere no 2-1, ok attenzione che qua gli Yoshi possono anche rimontare, eh quindi, stiamo attenti cerchiamo di segnare e aumentare il vantaggio vai Shadow che ancora non hai usato la mossa speciale è vero, perché la sua non si è caricata invece quella di Yoshi, sì boh forse si carica quando tiene la palla non lo so no, la parata mamma mia, povero Yoshi l'ha travolto dai qualcuno no, no Yoshi attenzione lì, eh colpi potenziati vai attenzione è tornato di fuoco questo era uguale anche Sonic se non sbaglio usa questa tecnica però maledizione abbiamo c'è il portiere di là che è stordito e noi non riusciamo ad arrivarci, eh chissà se è ancora stordito no, maledizione dai che così segniamo col eh, ho notato che se uno va verso le fasce verso i lati diciamo non non centralmente se se tira centralmente cioè non centralmente da una posizione più più laterale così, tipo dalle fasce ehm ha più possibilità di segnare vedete vedete non adesso perché il portiere era proprio stava coprendo esattamente la porta quindi non c'erano molte speranze tipo così, vedete intanto macchie, ok manca il portiere vero sembra di no però intanto abbiamo segnato attenzione 4 a 1 grandissimi così, ok mancano ah, siamo già nel tempo di recupero ok maledizione no non ci voleva ah ok buono ci è andata bene fine partita ottimo 4 a 1 abbiamo battuto Yoshi perfetto no non c'era qualche dubbio se devo dire la verità anzi forse sì qualche dubbio forse c'era ma sul fatto che io riuscivo a vincere non che tu vinci non te ok vabbè in ogni caso ce l'abbiamo fatta e ci riproviamo adesso contro sì ancora contro Yoshi credo che l'avversario cambiava invece no va bene la rivincita allora contro Yoshi dai maledizione ok perfetto avanziamo così con lui ok no non la volevo passare a lui maledizione attenzione a Yoshi che ecco forse era forse è meglio così anche se ci stava un cartellino giallo con quel fallo lì perché è giusto maledetto non ci credo siamo in svantaggio siamo sotto di un gol adesso quindi è meglio recuperare in fretta perché non c'è molto tempo abbiamo iniziato veramente da schifo prima con un fallaccio incredibile no 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 esci portiere esci mamma mia grande grande fortunatamente cioè non è tanto grande perché gli ha tirato addosso se dobbiamo dire la verità mamma mia no stiamo facendo schifo in questa partita non riesco a salire non riusciamo ad andare verso la porta avversaria ok bene ci è andata bene vedo che non hanno molta intesa questi Yoshi sbagliano sempre i passaggi soprattutto sulle punizioni ecco dai anche noi ne stiamo sbagliando un po' troppi se devo dire la verità ok colpi potenziati attenzione è uscita quindi c'è ancora il guscio vero? no maledizione no la parata e mancano ok siamo nel recupero dobbiamo recuperare in fretta adesso no io ho schiacciato mamma mia stavo tirando me l'ha fregata proprio nel momento esatto in cui tiravo in cui il personaggio stava tirando dai maledizione qui è finito il primo tempo e stiamo perdendo ecco appunto e qua stiamo andando male in questa partita siamo riusciti a fare due tiri forse nel finale solo nel finale però attenzione adesso ce la facciamo il palonetto vai no maledizione me l'ha travolto povero shadow ok forse è meglio lasciar perdere i pallonetti perché mi vengono in mente strani ricordi nel senso che non ce l'ho mai fatta a farlo e forse è pure addirittura impossibile no questa non ci voleva mamma mia via 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 di lì via 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 no 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 io l'ho tirata addosso maledizione siamo ok questa l'abbiamo persa ve lo dico questa l'abbiamo persa proviamo a fare un rimontone incredibile ma la vedo dura vai no così ma dai un dribbling non lo sapete fare robot inutili no 30 secondi più recupero ok abbiamo diciamo la possibilità di usare il super tiro e ora sfruttiamo no no l'avevo schiacciato ma come ed è pure uscita no non ci credo sti Yoshi qua mi stanno veramente mamma mia che gol che gol dai riapre la partita 2 a 1 dai che magari riusciamo a pareggiare entro quanto manca ecco 10 secondi non è una bella cosa questa sapete dai 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 scatto finale corri corri shadow corri colpi potenziati vai no no dove sta andando quella palla non ci credo dobbiamo correre in fretta siamo nel recupero dove l'ha tirata no no non ci posso credere abbiamo perso vai 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 no fammi tirare fammi finire l'azione maledettissimo di un arbitro non ci credo abbiamo perso ok dai adesso ci vuole la bella contro Yoshi eh dai che questa volta adesso siamo 1 a 1 con gli Yoshi maledettissimi mamma mia che partitona questa è stata veramente difficile è stato anche difficile perdere vabbè dai questa volta vinceremo ve lo dico io vai 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 così cross in mezzo attenzione e c'è il gol mamma mia non so come non so con cosa l'ha colpita la palla per segnare anche perché la testa non ce l'ha nemmeno vabbè dettagli forza dai cerchiamo di evitare la loro rimonta perché so che Yoshi ormai ci siamo abituati a subire i gol strani dai gol perfetto 2 a 0 dai che così iniziamo ad assicurarci la vittoria di questa partita siamo già 2 a 0 2 gol di vantaggio sono anche abbastanza pochi se loro segnano adesso no no sei con non ci credo non ha neanche fatto in tempo diciamo attivare la loro tecnica che hanno già segnato ecco adesso siamo a rischio perché se loro segnano un altro siamo pari appunto ecco soprattutto se ci facciamo fregare la palla in questo modo no meno male che ha sbagliato ecco meno male un bel niente perché adesso è rimessa da una posizione abbastanza pericolosa ok meno male che l'abbiamo presa no non sbagliare questi passaggi da lì poi no 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 grande così difensore vabbè sì come si chiama lui attenzione la palla per Sonic cioè Sonic Shadow e che gol all'angolino attenzione 3 a 1 grandissimi così basta rimanere con due gol di vantaggio e siamo a posto dai cerchiamo di mantenerli almeno se ne subiamo uno come sta succedendo adesso no ok sembra di no per fortuna magari se ne subiamo uno cerchiamo di recuperarlo cioè di rissegnarne un altro per stare avanti di due gol evitando magari il loro pareggio che non è esattamente una bella cosa se succede ok intervallo 3 a 1 buono ecco lì c'è Mario lì c'è Sonic peccato che nessuno dei due sta giocando vabbè no super tiro attenzione quando prende palla Yoshi quello lì no mamma mia vuole che vuole fare l'autogol stava andando verso no adesso tira ecco appunto cerchiamo di mantenere palla se la para ok manteniamola spara la via no non così rialzati maledetto portiere mamma mia giusto in tempo ok vai ok andiamo avanti così mancano 30 secondi da resistere perché ho tirato volevo farla scivolata invece poi non mi ero accorto che la palla ce l'avevo già io ancora la stessa cosa vai attenzione super tiro no ho schiacciato super tiro maledizione ora 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 vai tornado di fuoco ok vai che a terra grandissimo così 4 a 1 ok il primo gol di questo secondo tempo che era un po' a secco di gol la verità il primo gol il primo gol è arrivato quando mancano 10 secondi per fortuna è nostro questo primo gol sperando che non ce ne sarà un altro un primo anche loro vai ok recupero dai che magari riusciamo a fare il quinto dai non c'è nessuno in mezzo dai qualcuno che va in mezzo a parte che dovrebbe esserci shadow in mezzo peccato che lui aveva la palla quindi mi sembra un po' difficile ecco adesso no vabbè è finita va bene perfetto mi sembra anche anche la prima mi sembra che era finita 4 a 1 se non sbaglio ok dai buono dai abbiamo vinto due volte su tre considerando che la difficoltà è difficile quindi al massimo della difficoltà l'importante è aver vinto ok perfetto quindi per questo video ci possiamo anche fermare io vi ricordo di scrivermi nei commenti quale sport volete che faccio nel prossimo episodio e soprattutto in che difficoltà so già che voi direte tutti difficili apposta per farmi perdere vergognosamente ecco come non ho fatto finora negli scorsi episodi perché più o meno ce l'ho fatta a parte alcuni sport che veramente non ci riuscivo neanche con la difficoltà più facile possibile quindi ci fermiamo per questo video io vi ricordo se volete iscrivervi al canale se l'avete già fatto anche i miei profili twitter e più in particolare facebook perché è lì che vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale se magari ci sono problemi o ritardi con i video vi aggiorno sempre lì trovate il link in descrizione di tutto quello che potrebbe servire sul mio canale e anche il mio nintendo network id che potete utilizzare se magari volete mandarmi una richiesta di amicizia oppure seguirmi su mivers della wii u anche se se volete fare qualche partita con me ai giochi per wii u potete contattarmi oppure mandarmi una richiesta di amicizia e poi si può giocare online ai giochi che ho io e che magari avete anche voi tipo splatoon mario kart 8 questi giochi qua quindi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti